Grazie a tutti Ecco questa è la campana, abbiamo ripreso quasi nulla Ecco la macchina per corsa Ecco il gruppo da molto lontano Mi sembra ancora gruppo compatto Al giro della campana il gruppo è ancora compatto Questa mia racconcia non si mi ha mai saputo Lontano Lontano Al giro Ecco questo è il gruppo della campana La campana, il giro alla campana Ecco la campana È il giro della campana anche per loro Le prossime sono due volate Non abbiamo ripreso niente Non abbiamo neanche voglia di riprendere Su 18 percorso di ogni giro 18 km per ogni giro riprendiamo due secondi Prossimo giro Ci sono le due ultime volate e basta Non abbiamo ripreso quasi nulla Non ce lo hanno permesso Ecco siamo in attesa della conclusione della gara Lontano Tutto Tutto